E' un appuntamento molto speciale quello di oggi perché sto per parlare insieme all'autore di un libro che mi ha veramente rapita. Intanto ben trovato Simone Rausi, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Io e Simone ci siamo conosciuti qualche anno fa. Aveva scritto un altro libro molto bello che mi aveva particolarmente divertita e quando ho letto che stava per pubblicare un nuovo romanzo ho pensato di contattarlo ma il risultato ha superato decisamente le mie aspettative. Caro Simone, complimenti. Grazie, me li prendo, me li prendo, grazie. Anche perché so che la gestazione di questo tuo nuovo libro che vogliamo ricordare ha un titolo peraltro molto speciale perché ha molto a che vedere con ciò di cui parleremo stamattina. Sì, Il colore delle cose non dette. Gestazione lunga, sì perché l'ho scritto nel 2020, poi il libro è finito nelle mani di un agente letterario, poi di alcune case editrici e infine Rizzoli. Quindi sicuramente il tempo è passato, editing ha avuto una gestazione anche di rifiniture, di messa a punto abbastanza lunga perché la storia è una storia complessa nel senso che è strutturata. Ci sono 36 domande, c'è un condominio con tanti personaggi e ci sono due sconosciuti. Quindi mettere insieme tutti questi elementi significava organizzare bene la struttura del libro che infatti è stata organizzata con un muro di post-it che io spostavo, cancellavo, rimescolavo sulla base di quelle che erano le dinamiche della storia del romanzo. Ecco, tu hai già fatto riferimento alle 36 domande e noi adesso partiremo da lì. Però prima io vorrei che tu comprendessi il mio disagio perché avendo finito di leggere il libro devo stare molto attenta a non spoilerare perché questo è un libro che non va spoilerato se no si rovina tutto! Sì, infatti basta un pronome perché in realtà adesso ne parleremo. La persona misteriosa che scrive a Nina non si dichiara mai se è uomo o donna, se è giovane o anziano quindi anche con i pronomi bisogna stare attenti. Allora andiamo per grado, andiamo per gradi anzi. Partiamo proprio, tu hai già nominato la protagonista che scrive in prima persona la propria vicenda che è Nina. Nina, se dobbiamo dirla in maniera molto semplice, deve elaborare un lutto. Certo, sì, sì, ha perso il fratello da qualche mese, da allora non esce più di casa sta sempre nella sua manzarda, fa la grafica in smart working, anche per fare la spesa al supermercato di fronte prendere la macchina per proteggersi dal mondo esterno. Fino a quando non riceve un messaggio una sera da uno sconosciuto, barra sconosciuta, che la invita a fare un percorso di 36 domande, che tra l'altro esistono davvero, sono un esperimento psicologico, sociologico. Lei chiaramente all'inizio rifiuta, arrabbiata, infastidita da questa cosa, fino a quando non scopre che la persona che le scrive conosceva molto bene il fratello scomparso, Samuele, quindi condivide uno lutto, forse lo conosceva anche meglio di lei, e poi scopre persino di essere una persona del palazzo, dello stesso palazzo, quindi uno dei vicini di casa. A questo punto Nina deve capire di chi si tratta e quindi attraverso un'indagine parallela, perché da una parte risponde alle domande, dall'altra bussa alle porte dei vicini di casa, entra in queste case e scopre le vite degli altri che le abitano intorno e che di fatto però non conosceva così bene, così come non conosceva così bene anche Samuele il fratello. Ora capite bene che in tutto questo c'è un ingrediente che nella vita di noi esseri umani gioca un ruolo fondamentale, che sono i segreti, tutti ne abbiamo. Chi più chi meno, Samuele chi più evidentemente, quindi Nina si rende conto di non aver mai conosciuto davvero il fratello bene come credeva, ma nemmeno i vicini di casa, cioè chi sono le persone che abitano sotto di me, al piano di sotto, con le quali parlo in ascensore, o alle cassette postali. Il condominio è abitato da personaggi molto diversi, c'è Prosperina che è la portiera, c'è un ingegnere con uno studio professionale, due famiglie, una giovane coppia in crisi, una madre ungherese con la figlia, un pasticcere single che ogni sera le porti dolci avanzati per chiudere la giornata. Ecco, chi le scrive, poi lei darà un nome a questa persona per renderlo reale, è il nome Asso, chi le scrive può essere ognuno di questi, dalla signora sessantenne al professionista trentenne. E questo naturalmente apre un mondo, perché noi siamo abituati a parlare con qualcuno che anche se non vediamo, anche se non abbiamo mai visto, comunque conosciamo, sappiamo se è un uomo o una donna, se è giovane, se è anziano. E comunque abbiamo un'immagine mentale in ogni caso, appunto. Che in qualche modo ci precondiziona, perché se io ho di fronte a un ragazzino o a una persona anziana, mi porrò in modo diverso. Mi pongo, certo. Se io ho di fronte a una persona molto bella, posso essere in soggezione. Sono tante le dinamiche che così precondizionano una conoscenza. In questo caso, tra Nina e questo personaggio ci sono solo le parole, le esperienze, i pensieri vissuti attraverso queste trentasei domande, che ti costringono inevitabilmente a essere sincero, perché sono costruite per questo. A proposito di queste trentasei domande, io sono molto curiosa di capire, c'è una cosa che mi tormenta da giorni, Simone. Cioè io voglio capire se la storia delle trentasei domande è arrivata, che avevi già l'idea di questa storia, o se sono stati invece lo stimolo, in qualche modo, per suggerirti la storia, che è l'idea che io mi sono fatta, però non so se è corretta. Ed è un'idea giusta, perché di fatti sono partito vedendo un video, per caso, ho visto su internet, dove una giornalista del New York Times dichiarava di aver fatto queste domande, di aver sposato la persona con cui poi le aveva provate. E dopo di lei sono stati tantissimi quelli che hanno provato queste domande, non tutti chiaramente si sono innamorati, però nasce effettivamente una forte intimità, una forte conoscenza tra le persone che le realizzano. Io le ho provate con gli sconosciuti queste domande. Ero curiosa di chiederti anche questa cosa qui, sai? Se le avessi provate. Perché esistono, eh? Cioè, ci sono, le trovate su internet. Esistono, esistono. Esistono, è un percorso fatto di 36 quesiti, a volte all'inizio più che altro abbastanza divertenti, frivoli, poi man mano che vai avanti ti costringono a far cadere le maschere, i filtri. Tu vuoi partire anche abbastanza impostato, cioè provare a farti vedere in un certo modo. Poi le domande che ti costringono a fare dei complimenti, a prendere delle scelte, a rispondere a delle posizioni che non pensavi di aver preso, ti costringono a essere sincero, in modo crescente. Quindi se io le ho provate, devo dire che l'intimità fra due sconosciuti che si realizza in pochissimo tempo, in tre quarti d'ora, è fortissima. Le domande nascono con la premessa di essere l'unico esperimento scientifico che fa innamorare due sconosciuti in tre quarti d'ora. In realtà non ci si innamora se non lo si vuole, chiaramente se non si è predisposti, però ci si apre molto e lo si conosce. Infatti tra l'altro volevo dirti che noi realizzeremo queste domande live per tutti coloro che vorranno. Ah, interessante! Sì, c'è un evento che stiamo organizzando proprio in questi giorni alla Legateria Prompolini, il 12 luglio alle 19, dove chiunque vorrà venire potrà provare queste 36 domande e quindi capire cosa vuol dire fare questa esperienza. Potrà venire con chi vuole, quindi realizzarle con la persona che viene, oppure provare l'esperienza originale e quindi cimentarsi con uno sconosciuto o una sconosciuta e provare questo percorso. Simone Rausi, tu mi hai spaccato il cervello. Voi lo dovete sapere questo fatto che io da quando ho finito di leggere il suo romanzo non riesco a non pensarci a questo romanzo. Tanto mi ha toccata. Perché poi una cosa che, questa la possiamo dire, è che come spesso accade nella vita, quando cerchiamo fuori di noi, poi troviamo dentro di noi. E il che è dinamica, molto interessante, vi ritroverete. Allora, giorno 12 c'è questo appuntamento che io a questo punto mi fa venire voglia di venirci senz'altro. Ho un po' paura. Ma ti prego. Ho un po' paura delle domande, sai? Ma no, no. Guarda, non si farà male a nessuno. Le ho provate più volte, con diverse persone. Ogni volta è un'esperienza sempre diversa, però sempre intensa da ricordare. C'è un'altra domanda però che io devo assolutamente farti, e cioè, qual è il tuo colore? Quale colore sei tu? Bella questa. Perché ci ho pensato molto, ho pensato anche al mio, ovviamente, normale. Adesso poi lo vorrò sapere. Sì, questa cosa dei colori è effettivamente centrale nel libro, che tra l'altro appunto si chiama Il colore delle cose non dette, perché Nina in effetti... Mettilo un po' più al centro, così lo vediamo bene. Perfetto è lui. Nina fa la grafica, sognava fin da piccola di inventare un nuovo colore, un sogno che poi le fanno passare, perché le dicono che è un sogno stupido, che i colori ci sono già, non esistono altri, addirittura anche i professori le dicono che i colori sono stimoli fisici alla luce, che gli anziani e gli adulti rivedono in modo diverso, che uomini e donne rivedono in modo diverso. Così lei cerca l'assicurazione e per lei alla fine i colori diventano codici di Photoshop, cifre che non possono mentire. Lei però non parla con nessuno, non esce di casa, decide di associare, cioè decide, lo fa di sé, è un comportamento, di associare un colore diverso a ogni persona che è verde. Ci sono persone viola, ci sono persone verdi, ci sono persone azzurre. E quindi ha questo linguaggio per cui le relazioni con gli altri la spingono a identificare gli altri in dei colori. Se io dovessi scegliere un colore per me, probabilmente direi un azzurro, perché è un colore che effettivamente tutti abbiamo in testa, ma nessuno in realtà, secondo me è lo stesso punto d'azzurro. Per molti il blu chiaro è azzurro, ma in realtà è celeste. Per molti il turchese è azzurro, ma in realtà è turchese. È un colore che può essere tante cose e non per forza è sempre lo stesso a seconda di dove lo metti. Ce lo sai nominare, ma non per forza lo sai definire nello stesso modo. Un risposta meravigliosa, fra l'altro, veramente che coglie... Tra l'altro, come vedi, lo metto in dosso. Infatti, infatti, non poteva che essere così. E il tuo qual è? No, perché io sono vestita d'arancio, ma non è il mio colore. Io l'ho scoperto leggendo il tuo libro qual è il mio colore. Perché la definizione che Nina dà di questo colore mi ha fatto pensare che è un colore che io amo moltissimo e ho capito perché. Ed è il viola. Lo sapevo. Quando hai detto l'ho legto nel libro immaginavo fosse questo. Io questo libro lo devo assolutamente suggerire. Fra l'altro, l'estate è il periodo nel quale si legge di più. E questo è un libro che vi farà fare un viaggio bellissimo. Ve lo consiglio. Grazie Simone Rausi. Alla prossima. Buona fortuna. Grazie a te Antonella. Alla prossima. Grazie. Ciao.